Il primo terzo della regular season in MLB è ufficialmente andato in archivio, è ancora presto per fare i conti e vedere quali sono i veri valori in campo, però comunque qualche cosa è successo nel giro dei Diamanti USA e di conseguenza è tempo della solita panoramica della MLB Review sul mio canale. Ovviamente partiamo dalle classifiche per le divisioni e poi ci concentriamo sugli episodi che hanno caratterizzato questo mese di maggio, appunto il primo terzo di stagione che ovviamente non è così tanto indicativo ma qualcosa evidentemente è emerso a cominciare dalle classifiche delle varie divisioni partendo dall'American League East dove i New York Yankees sono in prima posizione con 40 vittorie e 19 sconfitte. In seconda posizione troviamo i Baltimore Orioles, 36 vittorie e 19 sconfitte. Al 50% pulita abbiamo i Boston Red Sox, 29 vinte e 29 perse. In quarta posizione abbiamo i Tampa Bay Rays, 28 vinte e 30 perse. Ultima posizione per i Toronto Blue Jays, 27 vittorie contro 29 sconfitte. Analizzando questa American League East possiamo dire sì, è una division competitiva ma meno degli altri anni, almeno in questi primi due mesi di stagione. Eravamo abituati gli scorsi anni, nelle scorse regular season a vedere un'American League East assolutamente competitiva, addirittura l'anno scorso ci ricordiamo 5 squadre sopra il 50% di vittorie o comunque alla pari, invece a sto giro sono soltanto 3 queste formazioni con 2 un pochino più staccate al netto che sembra che i valori siano quelli rispettati della vigilia. Ovvero New York Yankees e Baltimore Orioles che se la giocano per il titolo di division. L'anno scorso hanno vinto i Baltimore Orioles con Brandon Hyde, il manager che ha vinto anche il titolo di manager dell'anno. Quest'anno però gli Orioles si ritrovano davanti dei New York Yankees che non solo hanno un attacco sontuoso ma quella è la norma, ma hanno compensato con un clamoroso monte di lancio. Ed è la cosa ovviamente sorprende da un certo punto di vista perché sappiamo che Garrett Cole è fuori per infortunio, non ci sono sulla carta grandi garanzie eppure gli Yankees hanno nei loro punti di forza la votazione dei partenti che erano delle cose che doveva essere messa a posto con dei grandissimi interrogativi all'inizio della vigilia. Luis Gil sta facendo una stagione clamorosa, Nestor Cortez idem come sopra, poi una volta che i partenti la risolvono in qualche maniera arriva il bullpen e soprattutto arriva Clay Holmes che tendenzialmente le partite le porta a casa con le salvezze. Quindi un'amalgama di squadra trovata da parte degli Yankees è sintomo di una prima posizione in questo momento meritata. Attenzione però comunque ai Baltimore Orioles, squadra che in ogni caso può dare soddisfazioni anche quest'anno. Se già l'anno scorso erano giovani e forti, quest'anno sono giovani e forti e ancora più maturati, in particolare con un Gunnar Henderson in stato di grazia sontuoso che è il leader dei fuoricampi in American League, nel momento in cui sto facendo questo video, con 18 fuoricampo, ovviamente insieme ad altri tanti giocatori come per esempio Aaron Judge e Juan Soto, per citarne due, sempre degli Yankees, però comunque sarà una grandissima lotta nel mio modo di vedere appunto tra Orioles e i Yankees. I Red Sox da un certo punto di vista sorprendono perché un record al 50% di vittorie non era aspettato in senso positivo, sappiamo che i Red Sox hanno costruito una squadra in ottica futura, molto in ottica tanking, il problema è che potremmo azzardare già con quello che resta dei Boston Red Sox, ma non per qualità dei giocatori espressi, ma perché non c'è praticamente nessuno. I Red Sox tutte le volte hanno una marea di infortuni e in qualche modo comunque la portano a casa e la pezzano in qualche maniera. 29-29 è assolutamente un record dignitoso, peraltro battendo squadre che dovrebbero fare di più e che stanno in questo momento deludendo. Un po' meno i Tampa Bay Rays che secondo me sono partiti piano e non bisogna darli per morti perché sappiamo la filosofia della squadra di Kevin Cash, quindi bassissimo payroll, giocatori che ingrano nel lungo periodo e soprattutto giovani di prospettiva pronti a sbocciare. Chi invece delude fortemente, ma un po' ce lo si poteva anche aspettare, l'aveva detto anche il Doc nella diretta di MLB Italia di Ministra Cagione, che vi invito comunque a recuperare, c'è anche la versione integrale qui sul mio canale, i Toronto Blue Gears erano una squadra impredictata molto bene, molto in alto e come tutti gli anni sta deludendo quest'anno più del solito. Una squadra che non ha una vera e propria costruzione, è una solita squadra che avrebbe potenziale ma che non lo esprime e questo mancato potenziale evidentemente lo si traduce in un 27-20-29 perse, che per l'amor di Dio non è un record così tremendo, ma in questa American League East, dove ogni minimo errore, anche in questa competizione un po' meno frequente degli altri anni, la si paga tantissimo. Infatti i canadesi di Vladimir Guerrero Junior sono ovviamente una delle delusioni di questo inizio di stagione. È vero, è ancora presto per sparare sentenze e dare giudizi, però attenzione perché sappiamo che spesso da alcune posizioni di bassa classifica non ci si risolleva più e vale anche il contrario. Una volta che magari uno parte a bomba e con l'entusiasmo riesce a mantenerla, allora poi si può togliere tante soddisfazioni, così come se le possono togliere le prime due formazioni in testa all'American League Central. Ora, alzi la mano, chi a inizio stagione avrebbe detto che al primo di giugno, giorno del terzo appuntamento sul canale, per quanto riguarda il baseball, i Cleveland Guardians e i Kansas City Royals avrebbero occupato la prima e la seconda posizione nell'American League Central. Probabilmente nessuno di voi che guarda questi video, io nemmeno, eppure le prime posizioni abbiamo nell'American League Central, gli Cleveland Guardians con 38 vinte e 19 perse, praticamente sono la miglior squadra della Lega dopo gli Yankees. In seconda posizione i Kansas City Royals, 35 vittorie e 24 sconfitte. In terza posizione abbiamo i Minnesota Twins, che stanno facendo comunque una buona stagione, ma sono lo stesso terzi, 32 vinte e 25 perse. In quarta posizione i Detroit Tigers, 28 vinte e 29 perse. E in ultima posizione quello che resta dei Chicago White Sox, sul quale è inutile inferire, un po' come sparare sulla croce rossa, 15 vittorie e 43 sconfitte. Minnesota ce l'aspettava invece in prima posizione, e invece terza sorprendono nella prima e seconda posizione appunto Cleveland e Kansas City. Ma c'è un motivo, in particolare lo ritroviamo nel Monte di Lancio, perché se guardiamo le statistiche, queste che vedete sono le statistiche aggiornate al 31 maggio per quanto riguarda il bullpen, eppure sorprende fino a un certo punto il motivo per cui Cleveland è in testa. Perché se nell'American League East New York è prima, ma con il miglior monte partenti e il secondo miglior bullpen, che per chi non conoscesse il gioco del baseball vuol dire i lanciatori di rilievo, quelli che sostituiscono i partenti una volta che questi ultimi scendono dalla partita, ebbene Cleveland con una media di punti, guadagnate sul lanciatore di 2,51, è per dispersione il miglior monte rilievi della Lega, e quando i rilievi, quindi i lanciatori di sostituzione, arrivano sul Monte di Lancio e concedono pochissimo e portano a casa sempre le partite, vedete anche dato le salvezze, 20 che sono un'enormità, allora vuol dire che puoi fare grandi cose. Il closer dei Cleveland Guardians è Emmanuel Claset, che è uno dei migliori nel suo ruolo, però è coadiuvato anche da un grande core di lanciatori, e appunto concedere due punti e mezzo a partita di media per i lanciatori di rilievo è qualcosa di straordinario, per dare l'idea a chi non conoscesse il gioco del baseball, per dare una sorta di parametro, se un lanciatore o comunque una media di lanciatori ha una IRA, punti per il lanciatore in italiano, che come media è inferiore al 3, vuol dire che sei praticamente un fenomeno quasi intoccabile. Dal 3 al 4 sei un buon lanciatore o un buon core, sopra il 4, 4 e mezzo di media di punti concessi a partita, allora c'è qualcosa che non va. Ebbene, Cleveland, ricordo, 2,51 punti di media di squadra per i lanciatori di rilievo, non è un singolo lanciatore, è tutto il bullpen che una volta che entra in gioco fa veramente quello che vuole, c'è poca chance per gli avversari, quindi il motivo principale per cui vediamo questi Cleveland Indians in prima posizione è appunto il monte rilievi, aggiungendo il fatto che poi anche l'attacco non scherza, perché abbiamo citato dei bombardieri, Gunnar Henderson, Aaron Judge, Juan Soto e compagnia cantante, eppure anche Cleveland ne ha, in particolare Josh Naylor e soprattutto Jose Ramirez, la superstar in terza base dei Cleveland Indians, si è ovviamente svegliato e ha fatto, e sta facendo Jose Ramirez e quindi finalmente anche Cleveland dopo i fasti della finale persa, purtroppo contro appunto i Chicago Cup nel 2016, sta tornando quella squadra che per anni ha ovviamente rifondato, e sta tornando anche una squadra che un titolo invece l'ha vinto, e parliamo dei Kansas City Royals nel 2015, parliamo della grande squadra di Salvador Perez, di Wade Davis, Greg Holland, Harry Cosmer e chi più ne ha più ne metta, eppure Salvador Perez c'è ancora, ma è correlato da un core di giocatori che onestamente è abbastanza valido, abbiamo un Bobby Witt Jr. che sta maturando, esplodendo finalmente, parliamo di uno dei migliori prospetti degli ultimi cinque anni, l'interbase dei Kansas City Royals, eppure anche qui alzi la mano chi avrebbe mai detto che il miglior lanciatore non dei Kansas City Royals, non dell'American League, ma della Lega in generale, sia stato Seth Lugo, nove vinte, una persa, una media di punti di valenso del lanciatore di 1,72, ripeto, se tu sei sotto al 3 di punti di media, guarda adesso il lanciatore, sei un cazzo di fenomeno, con il 1,72 praticamente sei intoccabile, Seth Lugo è un grande veterano, è un giocatore che ha avuto anche modo di vincere un Argento Mondiale con Porto Rico nello scorso World Baseball Classic, non quello dove l'Italia è arrivata a quinta, quello prima è un ex lanciatore dei Mets che faceva anche il rilievo, è andato ai Padres, ha girato un sacco di altre squadre, Seth Lugo è un colpo che molti hanno sottovalutato, io personalmente non si sono detto, attenzione ragazzi, perché questo è un buon colpo, certo Kansas City non è che punta ovviamente al titolo in questo momento, ma può essere una squadra solida che può risollevarsi dopo anni di disastri, di rifondazioni, eppure con queste grandissime prestazioni, è anche un buon bulben, perché abbiamo visto anche nelle statistiche precedenti che il monte rilievi dei Kansas City non è così schifoso, allora attenzione perché evidentemente anche Kansas City può dire la sua una division che storicamente è meno competitiva delle altre, al netto che con Minnesota che è un pochino altalenante e con questi sorprendenti Royals e grandiosi Cleveland Indians, attenzione perché potrebbe esserci un triello per playoff e wildcard, peraltro Seth Lugo non è l'ultimo degli arrivati insieme ai lanciatori dei Royals, c'è anche Brady Singer che sta facendo veramente una grandissima stagione a altro giocatore giovane e di prospettiva, quindi attenzione perché i Kansas City Royals sembrano non essere un bluff, a differenza delle altre partenze di altre squadre, teniamoli d'occhio e vedremo cosa succederà nel prossimo appuntamento che ricordo sarà il primo luglio qui sul canale. In terza posizione abbiamo Minnesota Twins, che però comunque patiscono un sacco gli infortuni delle sue superstar, che sono in particolare Royals Lewis, che tanto per cambiare infortunato è anche Byron Baxton, c'è solo Carlos Correa delle superstar a tenere sulla baracca, certo Minnesota anche qui è un po' un vorrei ma non posso, eppure questa partenza rilento sembra aver dato adito già una mezza fuga dei Cleveland Guardians che hanno sei partite di vantaggio sui Twins che sono impredittati di vincere la divisione, almeno secondo i pronosti della vigilia, il netto che Cleveland è una degna avversaria e anche questa sorprendente Kansas City, Detroit sta dove deve essere, di Chicago White Sox abbiamo detto, ma appunto è inutile inferire sulla Croce Rossa. Chiudiamo la panoramica dell'American League, passando invece a Ovest in un'American League West sicuramente competitiva con i Seattle Mariners in prima posizione, 32 vittorie, 27 sconfitte. Per la formazione del Stato di Washington in seconda posizione abbiamo i campioni in carica dei Texas Strangers, 27 vinte e 30 perse. In terza posizione gli Houston Astros, 25 vinte, 33 sconfitte. In quarta posizione gli Oakland Athletics, 23 sconfitte, o meglio, 23 vittorie, 36 sconfitte. E gli ultimi sono i Los Angeles Angels of Anaheim, 21 vittorie, 36 sconfitte. Qui i valori sono un attimo cambiati perché Texas poteva evidentemente partire meglio e invece è in seconda posizione. Seattle è arrivata evidentemente a lungo andare, nonostante ci sia un Julio Rodriguez che sta facendo oggettivamente fatica, però ovviamente abbiamo un core di lanciatori parecchio interessante, soprattutto Luis Castillo e Logan Gilbert. Per alcuni Seattle ha addirittura la migliore rotazione della Lega e non è probabilmente un'affermazione così sbagliata perché si sono tutti in forma, evidentemente Seattle concede poco. Il closer, Andres Munoz, è una garanzia, dunque Seattle è in prima posizione meritatamente. In seconda posizione è già sotto il 50% di vittorie. Abbiamo i Texas Rangers che sono partiti piano, ma un po' come Houston, mai dare per morti i campioni in carica e anche gli altri texani. Texas comunque arriverà nel closer della stagione, ha netto che ha ancora fuori Max Scherzer che deve rientrare e rientrerà soltanto a luglio dalla lista infortuni. gli Houston Astros invece dopo essersi partiti malissimo ed erano addirittura ultimi in division si sono un attimino risollevati e hanno comunque un record aperto. Certo, nelle ultime partite ne hanno perse 6 e vinte 4, nelle ultime 10 però, attenzione, mai dare per morti gli Houston Astros che è vero che hanno tantissimi problemi sul monte di lancio e l'attacco non sta girando, ma attenzione perché abbiamo visto un sacco di squadre partire piano ed essere praticamente fuori a metà stagione e poi andare a vincere il titolo, chiedere ad Atlanta o a Washington negli ultimi anni. In quarta posizione abbiamo i sorprendenti Oakland Athletics che sulla carta erano disegnati un record stile Chicago White Sox e invece stanno facendo tanto tanto bene perché comunque in una situazione disastrosa che hanno essere presentabili e dignitosi è sicuramente già un successo. Attenzione perché Oakland ha un giocatore da 5 stelle extra lusse ed è il closer Mason Miller che nel momento in cui sta realizzando questo video non ha ancora concesso un singolo punto agli avversari. Peccato che Oakland non arrivi quasi mai a giocarsi le parite punto a punto però comunque avere 23 vittorie in questo momento per Oakland che ricordo è in porcento di trasferirsi a Sacramento è veramente tanta tanta roba. Chi sta invece non deludendo ma ovviamente rispettando le aspettative è l'altra squadra di Los Angeles gli Angels che è vero hanno fuori Mike Trout sì c'è ancora Rendon che cerca di tirare sulla baracca però ancora una volta i Los Angeles Angels sono quella squadra di relitta che ovviamente non riesce a capitalizzare quanto di buono potrebbe avere è ormai inutile probabilmente fossilizzarsi mi aspetto nei prossimi anni che Mike Trout possa chiedere la trade verso qualche altra parte un po' come ha fatto Shwayotani che ha cambiato spawn dato i Dodgers ma che ovviamente non ne poteva più di non vincere sarebbe una squadra comunque di relitta e in fondo alle classifiche ultima posizione meritata addirittura fanno peggio di Oakland questi e questo ovviamente è sorprendente passiamo alla National League anche qui panoramica da est a ovest nella National League abbiamo in prima posizione i Philadelphia Phillies miglior squadra della Lega per distacco senza se e senza ma con 40 vittorie e 18 sconfitte peraltro i Philadelphia Phillies sono arrivati come primo team a quota 30 in questa stagione un gran bel milestone addirittura prima degli Yankees in seconda posizione gli Atlanta Braves 32 vittorie e 23 sconfitte per i campioni del 2021 in terza posizione i Washington Nationals con 26 sconfitte o meglio 26 vittorie e 30 sconfitte in quarta posizione i New York Mets 24 vittorie e 33 sconfitte ultimi i Miami Marlins 21 vittorie e 37 sconfitte una division che oggettivamente va a rispettare quelli che sono i miei pronostici perché Philadelphia è una squadra che punta tanto sull'attacco ma ha anche un core dei lanciatori veramente importante soprattutto in questa stagione in questo momento storico Ranger Suarez in seconda posizione gli Atlanta Braves hanno un attacco clamoroso anche qui anche se purtroppo hanno una tegola una tegola che probabilmente potrebbe condizionare qualche partita e addirittura tutta la stagione perché parliamo del miglior giocatore dal punto di vista della completezza del gioco Ronald Acuna Junior si è infortunato del crociato qualche giorno fa ufficialmente il venezuelano è out for the season quindi gli Atlanta Braves perdono il loro lead off che per chi non conosce il gioco del baseball è il primo imbattuto nell'ordine del line up ed è un giocatore che poteva garantire attacco difesa corsa sulle basi insomma un giocatore completo che viene meno quindi attenzione perché per la prima posizione forse è un gioco già fatto per Philadelphia sei partite in mezzo di vantaggio sono tante Acuna che non è più nei Braves per questa stagione è una partita incredibile quindi attenzione perché da qui in poi per l'Atlanta potrebbe aprirsi un'altra stagione certo rimane una squadra che potrebbe puntare tranquillamente ai playoff e secondo me i Braves ci arriveranno per il core di come dire bombardieri gli attaccanti che hanno però i Braves sono già al secondo infortunio che patiscono perché già non bastava l'infortunio di Spencer Strider Ronald Acuna è fuori per tutta la stagione ricordo rottura del crociato per il venezuelano in terza posizione ci sono i Washington Nationals 26 vittorie 30 sconfitte l'abbiamo già detto in quarta posizione i miei New York Mets e ultimi i Miami Marlins ma ovviamente in questa division dove ci sono i Philadelphia Phillies in prima posizione e i 30 Braves in seconda chi arriva terzo praticamente ha un piazzamento platonico sono tutte sotto il 50% per quanto riguarda i miei Mets è già tanto che arrivano terzi sono quarti è giusto così mi aspetto però che evidentemente i Mets possano vendere qualcuno e probabilmente ricostruire perché Edwin Diaz oramai siamo arrivati al cadavere di questo giocatore che è tornato da un infortunio grave è vero ma ha buttato via più partite di quante ne ha salvate e quindi è un campagna d'allarme certo c'è Pitalonso che batte un sacco di fuoricampo ma nei momenti più o meno inutili della partita attenzione perché nella 3 deadline i Mets a luglio potrebbero essere venditori le altre squadre sono più o meno dove ci si aspettava Miami ha un po' risolelevato la partenza disastrosa che ha avuto Washington invece è un po' nella terra di nessuno ma in questo caso è giusto così di Miami però parleremo dopo per due grandi episodi adesso però passiamo alla National League Central la National League Central che stranamente è competitiva perché c'è poco distacco tra la prima e l'ultima 9 vittorie separano i Milwaukee Brewers che sono primi dai Cincinnati Reds che sono ultimi in mezzo tra i Brewers e i Reds abbiamo Cardinals Cubs Pirates quindi tutte racchiuse in poche partite in una divisione che sulla carta era la più debole della National League i Milwaukee Brewers sono primi 34 vittorie 23 sconfitte si sono risollevati i Central East Cardinals che con una squadra giovane che sta più o meno ingranando sono sorprendendo 27 vittorie e 28 sconfitte appena sotto sono i Chicago Cubs che è una squadra molto simile ai Central East Cardinals ma secondo me è più di qualità e quindi i Cubs potrebbero puntare in un domani al secondo posto in division in quarta partita abbiamo i Pittsburgh Pirates partiti a Fionda come al solito ad aprile e poi un minimo calati ma in questa divisione comunque c'è tanto da competere quindi ogni minimo errore anche qui potrebbe essere pagato nella divisione che comunque nonostante ci siano quattro squadre sotto il 50% di vittorie è sicuramente molto molto interessante in ultima posizione abbiamo insinutato i Rez con 25 vittorie e 32 sconfitte ma appunto nuove partite a questo punto della stagione di ritardo sono veramente veramente poche basti pensare che la National League per esempio l'ultima paga 19 partiti di distacco dalla prima è vero che sono squadre più competitive di solito a Est rispetto che al centro dell'America però comunque è una National League Central che sta sorprendendo da certi punti di vista e parleremo tanto negli approfondimenti di questa National League Central perché tra Chicago tra ovviamente Pittsburgh Milwaukee e soprattutto Cincinnati ci sono tanti giocatori di cui dobbiamo parlare in particolare dobbiamo parlare di un grandioso prospetto che ha già esordito in questa stagione e non ce l'ha St. Louis squadra che storicamente lancia i giovedì non ce l'ha Milwaukee squadra nettamente prima in questa divisione ma ce l'ha Pittsburgh perché il mese di maggio è stato il mese dell'esordio assoluto di Paul Skins classe 2002 peraltro ha compiuto gli anni due giorni fa evidentemente numero uno prospect della nazione è un ragazzo che ha finito la carriera collegiale a Louisiana State i Tigers nel baseball sono delle squadre del CA più titolate evidentemente come sistema ha fatto soltanto l'anno di minors ha fatto un sacco di scalata verso l'alto tra singolo doppio triplo A ha esordito evidentemente già in questa stagione esordito dell'11 di maggio e le statistiche sono evidentemente queste in quattro partite giocate Paul Skins non ha perso una partita ne ha vinte due a una media di punti quando sono i lanciatori 2,45 quindi questo ragazzo promette veramente veramente tanto è un giocatore parecchio chiacchierato ricordo che questo ragazzo è stato draftato nel 2023 e vedere un giocatore che dopo un singolo anno in MLB dal draft esordisce in MLB è qualcosa di straordinario Pittsburgh può puntare tanto su questo ragazzo in un sistema di solito che non premia la scesa del draft perché in MLB sappiamo che vengono giocatori che hanno 23 24 anni se va bene ma comunque spesso arrivano giocatori già affermati eppure questo ha fatto la carriera collegiale un anno di draft un anno di minors ed è pronto già in MLB con una fastball molto veloce una palla veloce che raggiunge oltre le 95 miglia ha già un lancio tutto suo chiamato Splinker che è una sorta di via di mezzo tra Slider e Sinker anche questo un lancio sulle 90 miglia orarie che evidentemente potrebbe essere una variante importante al gioco un po' come la Swipper Tiotani insomma attenzione a questo ragazzo perché Polskins ha fatto parlare di sé e potrebbe ancora una volta continuare a farlo Pittsburgh probabilmente non sarà una squadra che al momento potrà competere per le prime posizioni nella National League Central ma attenzione perché Polskins fa già parlare di sé e lo farà evidentemente nei prossimi anni chi sta già facendo parlare invece di sé è quello bravo col 44 dei Cincinnati Reds perché sappiamo che l'anno scorso è arrivato un giocatore che si chiama Eli Della Cruz un dominicano classe 2003 altro giovane di talento puro che è conosciuto per la sua battuta ma soprattutto per la sua velocità sulle basi in questa partita in cui vediamo uno spezzone contro i Los Angeles Dodgers arriva un milestone per Della Cruz che tanto per cambiare ruba una base e parliamo del milestone numero 30 in stagione Della Cruz ha rubato 30 basi un qualcosa che in questi tempi moderni dove il gioco è molto studiato dove evidentemente ogni dettaglio conta arrivare a queste cifre a maggio è qualcosa di incredibile non dovrebbe arrivare a battere il record di Ricky Anderson che in una stagione singola ne rubò 130 di basi ma Della Cruz nonostante i Cincinnati Reds siano ultimi in division con 25 vittorie faccia parlare di sé e può attentare sicuramente alle 100 il record di Anderson è impossibile ma Della Cruz come sempre continua a fare cose e a proposito di rubare basi dobbiamo parlare di una cosa che non succede altrettanto spesso e qui però bisogna fare attenzione a un particolare perché se durante i lanci in batteria succede che arriva un rilancio troppo lento allora può capitare che succeda una cosa di questo tipo nella partita tra Milwaukee e Miami arriva il rilancio al lanciatore eppure non inquadrato Christian Yelic parte e ruba a casa base eppure Miami concede un punto in questa situazione Yelic sveltissimo a evidentemente capire l'attimo il rilancio del catcher di Miami non è stato propriamente sto granché e Yelic cogliendo questa esitazione parte e ruba a casa base qualcosa che Della Cruz ha già fatto l'anno scorso questo invece lo fa una superstar come gesto atletico ma è veramente un qualcosa che non si vede tanto spesso e quindi dobbiamo celebrare questo maestro accaduto il 21 di maggio nella partita che peraltro Milwaukee ha vinto contro Miami in una squadra che adesso è protagonista ma verso il basso Miami peraltro sarà protagonista di un'altra cosa di cui però parleremo a breve perché parliamo dell'ultima division di questa panoramica ed è la National League West una division dove vediamo i Los Angeles Dodgers in prima posizione con 36 vinte e 23 perse in seconda condizione abbiamo i San Diego Padres 31 vittorie 29 sconfitte terzi sono i San Francisco Giants 29 vinte 29 perse quinta posizione per gli Arizona Diamondbacks 25 vittorie 32 sconfitte ultimi sono i Colorado Rockies che è giusto che siano lì 21 vinte 35 perse una divisione che sembrava già scritta per i Los Angeles Dodgers che hanno comunque un buon vantaggio sui San Diego Padres che sono a 5 partite e mezzo di distacco ma attenzione perché come detto nel video precedente i San Francisco Giants non sono mai morti e stanno approfittando di una debacle iniziale dell'Arizona Diamondbacks che è vero hanno perso San Gale in tempi recenti per infortunio sono una squadra però che sta diminuendo le statistiche soprattutto Corbin Kerr uno dei grandi giocatori degli Arizona Diamondbacks non sta battendo segno che evidentemente il secondo anno è sempre quello più difficile per semicitare Caparezza che San Diego invece è risorta in qualche modo dopo una stagione scorsa disastrosa è arrivata in un solito secondo posto in division a giocarsela con i San Francisco Giants e in questo momento finisse la stagione a maggio San Diego e San Francisco sarebbero ai playoff tramite wildcard però San Diego ha una spiegazione secondo me sul perché sta andando così bene e la spiegazione è di fatto una trade ma come una trade a maggio sì una trade a maggio perché abbiamo parlato di Miami squadra che è stata già classificata di relitta e a inizio mese è arrivata una trade che è un po' sorpreso che per me è un grandissimo colpo perché a Miami giocava Luis Arraes ecco Luis Arraes è andato a San Diego in cambio di tutti questi profetti che vedete quindi il coreano Fosu Go Dylan Head Jacob Marcy e Nathan Martorella che ovviamente per la cronaca quattro prospetti che però erano molto in alto sappiate che di questi quattro prospetti tre erano i primi treci dell'organizzazione dei Padres per avere Luis Arraes che non è l'ultimo degli arrivati nel gioco del baseball americano è semplicemente colui che ha vinto il titolo per due anni consecutivi di miglior battitore per media battuta e lo ha fatto in due leghe diverse nei Minnesota Twins nel 2022 per l'American League e nei Miami Marlins per la National League l'anno scorso eppure Arraes è andato a San Diego ebbene il numero 4 continua a fare cose e uno dei motivi per cui San Diego è stando bene è perché come leadoff c'è Luis Arraes che nella partita peraltro che si è giocata ieri notte contro i Kansas City Royals peraltro una partita vinta 11-8 Arraes ha fatto veramente cose parliamo di un multi-hit game cosa non strana per Arraes singolino al centro nel primo inning una validina nella parte alta del sesto dove esserano dei San Diego o meglio dei Kansas City Royals non è riuscito a coprire bene la difesa peraltro partita che era 0-0 fino alla parte alta del sesto qui altra validina per Arraes per mettersi in base con 0-8 nella parte alta dell'ottavo sono 3-3 quindi già partitone incredibile del giocatore dominicano eppure abbiamo ancora la chicca sul 7-3 per San Diego arriva l'ennesima valida di Arraes che porta a sto giro anche dei punti a casa arrivano i punti del 8 e del 9 a 3 4 su 4 per Luis Arraes con 2 RBI ebbene ripeto se San Diego è arrivato in questa situazione in seconda posizione in division della National League West è soprattutto se non anche merito di Luis Arraes sono delle divisioni tanto competitive è vero ripeto come ho detto all'inizio del video è ancora presto per fare evidentemente dei giudizi per vedere chi può essere sorpreso d'illusione o certezza di questa stagione ma comunque qualcosa si è visto in questi primi due mesi di stagione regolare che ovviamente però rappresentano soltanto un terzo del campione ricordo che la stagione regolare del baseball arriva fino a ottobre e poi dopo si arriva nel momento clou quello dei playoff fatemi sapere cosa ne pensate però di questa analisi dell'MLB Review per quanto riguarda il mese di maggio che si è appena concluso ricordo che il prossimo appuntamento sarà il primo luglio per quanto riguarda il baseball americano qui sul canale invece nella prossima settimana sempre a tema sport americano parleremo con il doc Andrea di NHL dei playoff in un video in collaborazione con la nostra pagina Instagram di Face of Italia insomma lo sport americano continua a essere qui sul mio canale in attesa ovviamente dei grandi momenti del meno belloso gioco del baseball il saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video